Secondo quanto anticipato dagli esperti meteo è arrivata puntuale la neve in questo fine settimana. Siamo a Chieti, strade imbiancate dalle 5 di questa mattina. Secondo quanto predisposto dell'apposito piano neve dell'amministrazione comunale sono in giro i mezzi spargisale e spazzaneve della società Formula Ambiente che gestisce il servizio qui in città. In via precauzionale, ha riferito l'assessore comunale Chiara Zappalorto, sono state chiuse le strade del centro storico maggiormente in pendenza in attesa di rimuovere la coltre bianca. È arrivata secondo le previsioni, da questa mattina presto, prestissimo, i mezzi sono in giro per la città, i mezzi spargisale, i mezzi spazzaneve, spargisale e spazzaneve. Stiamo monitorando la viabilità, per ora non si riscontrano problemi con una particolare attenzione ai luoghi dove si faranno gli screening. Assessore, garantito lo screening anche in questo fine settimana? Sì, per adesso sono garantiti tutti i luoghi degli screening, comunque la situazione è in costante monitoraggio, stiamo controllando tutti gli accessi e tutte le arterie principali della città. Io raccomando a tutti i cittadini di mettersi in cammino solo se è necessario e soprattutto di mettersi in cammino con le attrezzature per le automobili e per i mezzi per la neve. Qualche problema si è registrato invece sul fronte della circolazione nelle zone pedemontane-montane per neve e ghiaccio. In vista di un ulteriore abbassamento delle temperature, gli operai comunali sono stati allertati per la pulizia delle strade con l'utilizzo del sale in vista delle gelate notturne. Disagi contenuti a Chieti, anche perché grazie all'ordinanza emanata ieri dal sindaco Diego Ferrara, le scuole di ogni ordine grado sono state chiuse per contenere la pandemia. Per concludere, Assessore, la neve viene giù abbondantemente, i mezzi saranno attivi anche nella giornata di oggi e di domani? I mezzi continueranno ad essere attivi finché sarà chiaramente necessario e continueremo appunto a monitorare costantemente il territorio sperando che la perturbazione finisca velocemente. L'Assessore Zappalorto ha sottolineato infine che proseguirà anche questo weekend l'attività di screening della popolazione. Gli operai di Formula Ambiente, insieme ai volontari della protezione civile, hanno lavorato per garantire l'accesso alle postazioni allestite in città. Resterà chiuso soltanto il punto allestito presso la scuola Chiarini. Tutte le altre postazioni saranno operative.